Buonasera, sono tornato qui negli studi di questo emittente in seguito all'esternazione pubblica fatta proprio su questa rete dal sindaco di Castiglione Presolana in merito all'appalto e alla realizzazione che ne deriverà della piazzola ecologica in località agro. Proprio in merito ad essa noi ci siamo già opposti, inteso come minoranza in passato, sulla necessità e sulla priorità, però oramai è stata fatta e quindi si procederà ai lavori non appena sarà possibile. Noi rimarchiamo e seguo a ruota quello che ha detto il collega Rossi in questa sede l'inopportunità e l'abnormità della spesa perché ricordiamo che per questo biglietto da visita come dichiarato dal sindaco la spesa si aggira intorno al milione di euro e sono risorse non del sindaco ma dei cittadini di Castiglione che sono stati spesi in questa direzione senza la minima considerazione dell'opportunità politica da un lato e dall'adesione, quindi dal consenso che le persone coinvolte avrebbero potuto dargli. Quindi ritorneremo poi su questo tema proprio in seno ai costi che ne deriveranno e dai costi di esercizio che la stessa produrrà sul territorio di Castiglione. In seconda battuta riprendo il discorso che riguarda la gestione del mercatino di Natale e della programmazione turistica. Non si può dire che non siamo soddisfatti di rivedere tutte queste luci, tutte queste attività nel territorio in concerto con la turismo presolana ma riprendo il discorso proprio perché vengono fatte esternazioni su questo punto precisano che anche l'anno scorso il sottoscritto aveva espresso fortissime perplessità sul fatto che non venissero stanziate risorse. Si in maniera un po' grigia palesava l'ipotesi che non ci fossero queste risorse, è falso, l'anno scorso c'erano come quest'anno. Quest'anno viene dipinto come una grande exploit dell'amministrazione a dispetto appunto degli esercizi passati. Questo non è successo e quindi anche su questo tema non vorremmo proprio per il bene di questo paese accettare l'ipotesi che un anno con l'altro si decidesse di stanziare o meno queste risorse. L'anno scorso le opportunità per evitare una debacle, quale accadde poi nel periodo natalizio, c'erano e noi lo sostenemmo fumotacciati di inopportuni contrastatori e dell'azione dell'amministrazione, cosa che non è affatto così. Proprio perché le risorse disponibili Castiglione da Presolana deve riuscire a gestire nella maniera più adatta per garantire sempre la sua offerta turistica. Concludo dicendo appunto all'amministrazione pubblico, al nostro sindaco, se ha intenzione di ripresentarsi alla prossima tornata elettorale, perché è importante capirlo già da ora, proprio per vedere se questi progetti, questi biglietti da visita, questi stanziamenti un anno sì, un anno no, sono il frutto di un progetto che è addirittura decennale oppure se verranno lasciati in capo alle future amministrazioni e quali ne saranno le conseguenze. Speriamo che queste domande dopo le feste natalizie per il quale faccio gli auguri a tutti ricevano una risposta.